sabato 9 settembre 2023 benvenuti amici a questo nuovo video allora oggi parliamo di quello in cui si parla in maniera decisa negli ultimi giorni un po' su tutti i canali youtube e anche su tutte le radio in tutti i quotidiani insomma è quello che ci aspettiamo da questo campionato come sarà la classifica finale della serie A 2023-2024 allora ovviamente le prime giornate hanno cambiato quelle che erano un po' le mie le nostre no un po' di tutti convinzione abbiamo visto grandi squadre in difficoltà come ad esempio la nostra Roma e altri squadre invece confermare quelle che erano le impressioni di inizio stagione di rinforzi che avevano effettuato una tra tutte il Milan insomma io l'ho vista anche dal vivo è seriamente una delle candidate alla vittoria finale e quindi ho deciso di fare in questo video quella che è la mia analisi quello del mio pensiero su come finirà il campionato e la classifica completa dal primo al ventesimo posto e partiamo appunto proprio dalle ultime tre cioè quelle che saluteranno la serie A allora a mio modo di vedere nonostante il Frosinone abbia avuto un inizio discreto in campionato il Frosinone risaluterà la serie A che sarà una delle tre per l'esattezza a mio modo di vedere arriverà alla diciottesima posizione e insieme a lei saluterà ahimè non me ne voglia mister Ragnari al quale voglio veramente un mondo di bene e la Romaista ma il Cagliari arriverà in diciannovesima posizione quest'anno la vedo nerissima per l'Empoli e spero non non mi faccia ricredere domenica però l'Empoli secondo me arriverà ultima e tornerà in serie B dopo alcune ottime stagioni insomma inseriamo all'Empoli e di solito quando parte così la stagione non riesce a recuperarla per la dimensione insomma sia della squadra che della società arriviamo alla zona la zona quella che ci interessa ma partiamo dalla decima posizione decimo quest'anno secondo me arriverà il Bologna di Tiago Motta io ho avuto modo di vederlo in Juve Bologna il Bologna mi è piaciuto molto secondo me è un'ottima squadra che gioca bene a calcio e quindi a mio modo di vedere ha troppe rivali avanti però il Bologna secondo me la decima posizione quest'anno riuscirà a strapparla quindi decimo posto per il Bologna nono posto per il Torino Torino sicuramente con l'arrivo di Zapata ha una carta in più da giocarsi in attacco e bisognerà logicamente vedere le condizioni del colombiano però secondo me per quel reparto il Torino si è rinforzato decisamente e può sicuramente strappare qualche punto in più quest'anno rispetto alle ultime stagioni quindi secondo me nono posto per il Torino all'ottavo posto in questo momento io vedo la Fiorentina seppur insomma la squadra eh l'italiano si è rinforzata e parteciperà nuovamente alla conferenza si è qualificata e nel turno preliminare però la Fiorentina secondo me è al di sotto a livello anche di continuità non solo per il 4 a 0 subito a Milano con l'Inter secondo me la Fiorentina al di sotto di tutte le altre quindi il massimo che potrà raggiungere è l'ottava posizione ma ripeto è la mia il mio giudizio ad oggi eh quello che penso eh settima posizione qui qualcuno mi darà del pazzo ma io vedo l'Atalanta di Casperini l'Atalanta di Casperini che sicuramente ha ha inserito Scamacca che nell'ultimo ha anche fatto una doppietta e ha inserito altri giocatori interessanti ma eh solo un nuovo acquisto ha giocato le prime tre vedremo le prossime però secondo me anche l'Atalanta complice anche l'impegno europeo d'Europa League l'Atalanta eh farà un campionato inferiore a quello dello scorso anno quindi settima posizione per l'Atalanta. Sesta posizione ahimè per la nostra Roma eh la Roma sicuramente si è rinforzata e però per la Roma vale lo stesso discorso dell'Empoli quando inizia male una stagione è difficile che la Roma storicamente la riesca a riaddrizzare e quindi a mio modo di vedere la Roma potrà fare un nuovo percorso ottimo in Europa League sempre che Mourinho eh riesca a rimettere entusiasmo nell'ambiente e a ritrovare lui stesso le motivazioni. In un'intervista ha detto che se parla della finale col Siviglia gli danno dieci giornati quindi questo evidenzia quello che insomma sospettavo io nel dopo nella reaction di Roma Milan che Mourinho ha ancora e soprattutto a triplice fisco insomma che Mourinho ha ancora troppo e su quella partita non l'ha digerita non la manda giù e questo sta mettendo a rischio il suo lavoro e il suo lavoro e soprattutto il suo il suo appello sulla squadra quindi io spero eh che riesca a digerirla eh quella serata storta che nessuno di noi insomma eh ha mandato giù ma dobbiamo guardare avanti e dobbiamo riprendere a giocare perché tanto il mal tolto non ce lo ridarà nessuno. Quindi purtroppo secondo me la Roma avrà sì una nuova qualificazione UEFA ma Europa League arriverà a sesta. Quinto posto eh per la Lazio. La Lazio sicuramente eh grazie anche alla qualificazione Champions ha paduto fare finalmente dopo anni un ottimo calcio mercato ma anche la Lazio nonostante la bella vittoria di Napoli ha molti limiti che sono soprattutto eh caratteriali e l'ha dimostrato nelle prime due partite con eh a Lecce quella persa a Lecce e quella persa in casa col Genova e quindi anche la Lazio secondo me farà fatica a fare un campionato soprattutto ai livelli dello scorso anche dello scorso anche qui inciderà molto il cammino in Europa perché lo conosciamo tutti i sarni no ma conosciamo poi la realtà di qualsiasi squadra più si va avanti in Europa e più diventa difficile eh fare punti poi in campionato perché l'Europa soprattutto la Champions quest'anno per la Lazio porta via tante energie mentali e fisiche quindi secondo me la Lazio eh arriverà quinta e quindi anche lei in Europa League adesso arriviamo alla zona Champions le prime quattro posizioni partiamo dalla quarta io quarto eh non me ne vogliono i miei tanti amici di Napoli ma vedo proprio il Napoli e vedo il Napoli perché eh storicamente non è mai successo che una squadra diversa dalle tre strisciate interminano in Juve sia mai riuscito a vincere due campionati di fila è anche vero che può succedere sempre per la prima volta ma non mi sembra non mi sembra questa la stagione e quindi secondo me non non riuscirà eh in Napoli a ripetersi e farà fatica arrivare anche più in alto perché sarà anticipato proprio da le tre strisciate che adesso vi metto in ordine al terzo posto io vedo la Juve la Juve di Allegri eh la Juve è sempre una compagine d'osta è una squadra che come dice Allegri vince di corto muso e e sicuramente al vantaggio di non avere coppe se non la coppa Italia quindi la Juventus ha sicuramente tutte le carte regole anche a livello di rosa se non più eccelsa come qualche anno fa qualche anno fa scusate però la Juventus ha tutte le eh caratteristiche per raggiungere la qualificazione c'è un processo soprattutto arrivare tra le prime e io quindi la colloco al verso posto ora bisogna decidere tra le due milanesi chi la spunterà e secondo me lo Scudetto lo vincerà l'Inter lo vincerà l'Inter nonostante secondo me sul calciomercato il Milan si è rinforzato meglio e ha perso Sittonali però si è rinforzato meglio ha inserito giocatori che mi sono piaciuti anche a Roma Milan e il Milan insomma ha giocato diciamo col freno a mano tirato con la Roma perché ha giocato bene sì sicuramente complice anche una Roma spenta ma non ha mostrato secondo me ancora pieno tutte le sue potenzialità e però ad oggi e non è non sono condizionato dall'ultimo rubante 4-0 dell'Inter alla Fiorentina però secondo me l'Inter ha una marcia in più di tutte e a Lautaro che sicuramente sarà il capocannoniere della Serie A perché è un giocatore eccezionale e secondo me vicino questo Turam gli può dare una grossa mano c'è Arnautovic che li può far respirare entrare a partita in corsa o comunque sostituirlo per per togliere i tanti minuti in partita in cui magari l'Inter riesce anche a vincere con più facilità anche se oggi come oggi ce ne sono meno però insomma il centrocampo con Frattesi, Barella è vero ha perso Brozovic però insomma con Frattesi e Barella ha tanto dinamismo e tanta qualità vedo bene anche la difesa seppur non sono arrivati i grandissimi nomi no però ci sono insomma c'è Damian che sta facendo molto bene da Braccetto e c'è Bastoni insomma che ormai è un giovane affermato e anche in nazionale per quanto riguarda gli esterni nulla da dire a Danfris e soprattutto a Di Marco, Di Marco è proprio una freccia, è un giocatore eccellente che credo che anche quest'anno darà una grossa mano al Inter quindi secondo me alla fine questo campionato lo vincerà l'Inter di Simone Inzaghi. Riguardo le altre posizioni insomma in ordine credo che Lecce farà un buon campionato e riesca arrivare undicesimo quindi io lo vedo undicesimo a Lecce, al dodicesimo posto vedo il Monza, al tredicesimo l'Udinese che è partita molto piano con due pareggi e poi la sconfitta insomma abbastanza pesante in casa la prima con la Juve, il Verona nonostante l'ottimo inizio si salverà sì e anche forse con un po' di anticipo però non credo che possa ambire più della quattordicesima posizione, un campionato abbastanza tranquillo anche per il Genoa mentre secondo me Sassuolo e Udinese, sedicesima e diciassettesima posizione e faticheranno molto quest'anno, questa è la mia impressione, la mia prediction per questa Serie A 2023-2024. Quindi ragazzi come al solito battete like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella così non vi perdete nessun video ma soprattutto commentate questo video, ditemi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me o seppure la vedete in maniera differente e ne discutiamo nei commenti. Io vi mando un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video in questo caso è la live di domani con il triplice fischio speciale nazionale in cui parleremo della partita che ci sarà tra poche ore della nazionale a Scopie con la Macedonia del Nord analizzeremo il risultato che speriamo sia positivo per la nostra nazionale all'esordio di Spalletti insomma e quindi ci vediamo domani live dalle 21.30. Mi raccomando passate un buon sabato sera e sempre Forza Roma comunque vada. Ciao dal vostro Max.